Le guerre vengono dichiarate dai potenti, che poi ci mandano a morire, i figli dei poveri. La guerra piace ai politici, che non la conoscono. Chi invece la conosce, se ne fa un'idea molto presto. È facile ascoltare i notiziari, senza rendersi conto che per ogni bomba e ogni colpo di mortaio, ci sono persone che lottano per sopravvivere. Persone proprio come noi, con le stesse necessità, le stesse speranze, gli stessi desideri. Cosa ho fatto di male, si chiedono. Ma a questa domanda non c'è mai risposta. Ogni guerra ha una costante. Il 90% delle vittime sono civili. Persone che non hanno mai imbracciato un fucile. Persone che quando gli scoppia una mina sotto ai piedi, non sanno nemmeno il perché. I politici non capiscono che distruggere l'altro equivale a demolire se stessi al di là dello specchio. Sono tutte parole sue e lui è Gino Strada. Pace da Broschi.